Io non so se mai si avvererà Uno di questi sogni che uno fa Come questo che non riesco a togliere dal cuore Da quando c'è Forse anche questo resterà Uno di questi sogni che uno fa Anche questo che Somma tendone prona Sì 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 5 miliona mi treba Eura I Na Međugorju Radio projekat Brodogradilišta Sì 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 Per quanto riguarda ciò che non ci sono così grandi credite, e io vorrei parlare con l'advokato Ludolfo Alporto, per quanto riguarda mi un pozzo, e io vorrei parlare con l'advokato, e io vorrei parlare con l'advokato. E io vorrei parlare con l'advokato, e io vorrei parlare con l'advokato, e io vorrei parlare con l'advokato, e io vorrei parlare con l'advokato che gli uomini e io vorrei parlare con l'advokato. Poi ciò che mi ha potuto fare un po' ciò che, e io vorrei parlare sui anche loro, e noi proviamo a riuscire questo a due o tre giorni. per questo io sono stati ma la nostra banca deve essere ci siamo passati possiamo andare alla presenza potete ecco 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 Ahah. 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 Ahah... Ahah. 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 Allo Ludo, a dove siete i tui? Doi, trebiamo te hit... Trebam te hitno, ovaj... Imam jednog čovjeka vrlo važnog, i sa mene iza tebe. Aj, požulj, chekamo te u plavi dere. Ali na brzinu čovjeku se jako žuli. Koliko ima satnih, gospod? Ima već dosta sati, ali pričekat ćemo ako može doć? Ali dobro, pričekat ćemo te, ali nemoj da te tu... Čekamo sat, vijemena, dva. Nemam nija vijemena, i ja idem na obiteljski jučak. Aj bo, vidimo se. Evo vidite, kako ja na brzinu sjeđivam. Ma to, zemljače, odlično, evo ga. Sada ćemo mi naručiti da mi njega pričekamo. Ma, hvala ti, zemljače, evo ga vidiš da sve možemo dogovoriti. Nešto ćemo sad naručiti poiz, dok on dođe i... C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti, sui monti di Trento. Di Trento! Dalla di Trento. Dalla di Marina Ski anko nia krabbayle è la mia banca sono sempre un po' il ciotto quando sto con il ciotto non mi spoletto quando sto con il ciotto non mi spoletto un ciotto che ha il dritto segui i suoi tutti i suoi ma non è importante non si bussó sì, signore Guto il vostro non è importante ma viagguali te darò cosa hai una i un'esco e quindi io amico che è il mio il mio sarà nativa sotto lo stesso son insieme unite, unite, you love. ... 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 non è vero, non è vero, è da Portugale, è da qui ogni giorno e da qui. Hai vero che io sono il jamac per il credito, signor Ramoso, da Opus Dei? Oggi, a vero che ho sentito tutto il meglio di voi, e se stanno così, se stanno così forti e stanno così forti, è vero? Assolutamente. Non ho parlato da sreggio Magisteri, Ante Džapić. Ante Džapić è un grande politico, che è ora in America, a scrive qualcosa per il premiera Sarnadera e me. Quando si è tornato, il Magisteri deve essere apprezzato, ma che è prescritto. Cosa che mi può dire questo, questo sono io. Non ho parlato, che sono Don St. Kustić, che sono diventato in un'amica. Don St. Kustić, inizia per un'amica, io sono, e lui, che è venuto in un'amica, che sono diventato in un'amica. Don St. Kustić, adesso, c'è l'amica in un'amica, che non mi piace non mi, stai qui è in un'amica. che non mi ha detto la storia di Ivica Račana, che è stato il primo premio di Hrvatsko, perché vi lo sapete da Ivica Račan è stato il premio? Da. Da. L'ho insegnato di svirare la gitarra. E io. Non mi ha detto che il Vesnino Pusic è stato come una piccola piccola per Zrinjac. Il primo appello che mi ha fatto da venire, sono stati fatta con la mia, i 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 e invece io sono stati fatta da vendite su di me, non mi visserovano che mi permette. Ora, dobbiamo parlare di rispetto su questo, che è l'ho grande questione, vi dobbiamo sapere che Vatikanska banca trage depozit di 10%, se il vostro credito 5 milioni o 4 milioni? 5 milioni, 500 tis. E mane profitare su retrouver il doppia sul Magari. black out tutto tutto? qui inCidio s savoir domandane non lo stesso. Ma lo stesso con una di una forte biscupo, quindi potresti andare in questo modo. Per me vuoi dire un poeta e un poeta, sento un poeta, lo vediamo. Sì, avviamo. Non voglio. Sì. E' questo che non ha? Si. E' interessante idea. Non è mai pensato, però i Hercegovici sono molto più persone. L'abbiamo a la Brodogradina, le Pokre e la Cerkve, il Sveto Bajaro da Jaco. Ma si, guardatevi, Rudolf, di lavorare a Brodogradina, non per quello che i loro rade, ma solo perché la scela è alta e che hanno una buona scelta. E' una scelta? Normalmente. Siamo arrivati alla scuola e fatti 5 ore. Siamo arrivati. Siamo arrivati a ottenere una rugga per un tanker. Siamo arrivati in Međugorje. Siamo arrivati a pensare di come il tanker l'amore. Ploche sono più vicino. Siamo arrivati a chiedere da divino un vodostaggio di Cetine o di qualche rio. Od quale rio? Od Cetine o di Cetine. Od Cetine. Draghi signori, in vostro ragazzo, sa che io lo so che non è vero. Non è vero. Ma è bene, se si diventa i Cetine, si diventa i vero e non è vero. Ma è vero che non è vero. Ma è vero che non è vero. Ma è vero che non è vero. Voi spostate. È vero che non è vero che? E' vero che non è vero che non è vero. Ma è vero che ci proviamo a restare. Per questo è vero. La cosa che fa fare, l'ambino è vero che, io lo so che stavo per partire. E qui stavo a riuscire? Ano? Sì, è vero che. Ma è vero che stavo a fare l'Avrni Stang. È vero che? È vero che stavo. E l'Avrni Stang è vero che stavo a fare l'Avrne. Sve chiamo saposliti in Pirna. Abbiamo un grande progetto. Sì. E se non vi potete saposlili Bosanze? Sì. 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 Sono umane situazioni Quei momenti frattino I distanqui e i ritorni Da capito che niente pò Da come vedi Sto pensando a te Oggi Ivo Sanader Oh Ivo, kako si Evo, baš mi drago da me zoveš Sada, šta ima novo Kupio si garažu Za koliko Za sedamnest išća kuna To si dobro To si dobro prošao Uza redno Nego znaš šta Ivo, molim te Meni je neugodno tebi reć Ali ja sam napravio Stvarno velike usluge Tvom glasogovornikom Ratku Mačekom Dajmu, molim te, samo reci Da mi treba vratiti Onih 30%, to smo se dogovorili Nek mi vratiti u lovu Da ne bi ulazili Ti znaš da imamo izvaredne odnose Daj samo reci Mačeku Mislim da je on kupio Zajedno s ovim glasnogovornikom Mehunom Kupili su tam vinograd Neki, taj čovek me sad zove Da nije dobio lovu Nek da ovu Nek da ovu Meni ja ču sa čovekom Dajde molim te Ti znaš me Huna Isto da Ti ljudi oko Varaždina Nisu normalni Žao mi je da Se moraš i cimlo baviti Kad smo prijatelji Ja te prijateljski to pritam Ajde, hvala ti puno Ajde, Bog Evo, vidite Mislim, ovo je najbolji dokaz Da se nja prijatelj sa Velo moćim ljudima Ovo je premjer Ibo se nadeli I vjerujte mi da Ja to Mislim da Ja ću pokušat Čak i mislim da mogu Mogu napraviti Znači Dogovorili smo se ovako Vi 500 tisuća eura Morate dati 10% u polog u banku To je službeno Nakon toga Drugi dan vi dobivate A može čak i isti dan Dobivate 5 miliona eura kredita Za vašu ideju Dobro Ja Vam samo moram reći Proceduru kako to ide Ja imam njako dobre veze U crkvi Kao što znate Osim opus de Ja kontroliram Neki kardinale U katoličkoj crkvi Ja ću sad Nazvat jednu gospodju Koja će mi reći Ime sada Trebaču najmoćnijeg Biskupa I ja vam savjetujem ovako Da Sorganiziram misa U crkvi Za vas Da vi otičete Na Na tu misu I Da date Milodar Zdate da se Daje Milodar Recimo Ova milodar bi bila malo veća Pa To bi bilo Mislim oko Deset tisuća Eura Vi bi to trebali dat Biskupu kao milodar Za crku Nakon toga će stvari Svojim tokom I Ja se nadam Udruza ćete biti ovavješljni I želimo novac prijen Evo kada mi uredimo Kad znamo zasigutno Da će to biti tako Onda vi donesete 500 tisuća evra Kao Odraso I Ona Stvarno Mi je izlazila u susut puno puta Vi ne znate ko je Jelena Prajša To je jedna divna gospodja Koja je predivna Koja voli djecu Koja voli pomagat Djeci čak I Ova je Za manama djeci Bila predivna osoba I Ona meni se Napraje Boga mi Ja i njom Halo Da ja sam Željko Željko Malnar Lijepo vas molim Možete li mi Spojit sa Gospodjom Jelena Prajšom Ja pričekat ću Za poslana je strašno To je gospodja Jelena Prajša je Predivna Strašno Za poslana je strašno Mijen je godina Da neko tako radi Alo O Jelena A čuj Dobro sam A starim starim Svi starim Moja Jelena Šta ćeš Duh mi Osto mlada Ali tijelo ide Daš cigarete Kava Radim puno Kako da ti kažem Nego Jelena Htio bih te pitat nešto Imamo ovdje jednog Gospodina On je drag čovjek Došao je iz Međugorja Iz Bosne i Hercegovine I ovaj Očito je grešnik Grešnik je Jer ima grešne zamisli I to ga možda malo proganja Ne mogu ti na telefon reći Što želi on napraviti u Međugorju Izbog toga ima more Mislim da bi mu jedna misa pomogla On bi dao prilog Normalno Milodar za crkvu I mislim da mu treba organizirat Ispovijet Da on taj teret Izbači iz sebe Pa koji bio najzgodniji Za to Kog da ja nazvam Čučeka A pa deo kak se Nisam sečio Pa da on isto voli malu djecu Da 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 Aha Dobro Pa da on je najbolji Dobro Puno ti hvala Ajde Dobro Pok Ja Ja Ne znam Ja ću kontaktirati gospodina Danijela Čučeka Dobro Ja ću kontaktirati To su dva brata Danijel I Klaudio Čuček Ja ću Danijela A čak je možda bolji Klaudije Za to Ja ću ga kontaktirat On će organizirat Nisu Misovi treba biti za spas Vaše duše Znate Kad neko ima tako ludi projek Kod vi Njemu je duša Sa osproštenjem u kucu I vi trebate u misa I više trebate i Ispovjeti Da Jeste katolik Jeste To Eto Ali Mene će biskup Pitati U čemu je vaš problem Možete mi reći Ne trebate mi Mi reći Oni najintimnije stvari Koje ćete reći Svećeniku Na biskupu Na ispovjedi Ali ništo svijetovno Recimo što vas muči Biste ispali Kak bi mi Rekli ono Gado čovjeka Što vas muči Gledajte ovako Radio sam bio Kao tajnik U napretku Kod Gospodina Malo glasnije Radio sam u napretku Kao tajnik Kod gospodina Gabrića Štipi Gabrić Od Jamba Od Jamba A njegov tajnik ste bili Da I Evo ovako Njega je Gospodin Predsjednik Mesić Često bio zvao Na telefon Da Proba ugovorit Da Stipe dođe Kod njega Na jahtu Podvorku Je li to ona jahtu Da 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 Kod Stipina No međutim Ja sam to Uredno presučivao Bez obzira što je Stipe znao Zvati deset puta dnevno Jer ja Stipu volim Kao čovjeka I kao predsjednika I ne bih htio Da se on kompromitira Sa jednim čovjekom Kao što je Jamba Aha Znači vi onda Niste rekli Jambu Da je Stipe zvao A ovo je puno puta Znao je zvati Po deset petun sput A dobro To je lijepo Ako vi volite mjeseća Onda Ovo je da Nije zgodno da se on Vozi na službenoj jahti Sa jednim čam Dobro ste to napravili Ne bi to trebao biti problem Ja mislim da to svećeniku Ne trebate ni reći A ove druge stvari Koje vas muče Ja mislim da nakon niše I Milodare Koji vidi Ja mislim da onda mi možemo ići u realizaciju Ove kluče stvari Zato je to su predradnje Koje se moraju napraviti Ja ne bih htio da postanete nervozni Ali gledajte Dolaziti iz Bosne i Hercegovine Kredit od pet miliona eura Spano je teško I vjerujte im da preko ovih Da nema ovih veza koje ja im I da nije tu bilo Rudolfa Koji je vas ispojio sa mnom Mislim da ne bi uspeli Ali ja vam garantiram Ukoliko napraviti ovo što sam vam rekao Da će sve biti u redu Sajte to je ono što vam ja mogu reći Gdje ste ocijeli? U Zagrebu? U Zagrebu? Da U hotelu kod gospodina Sliška Kod gospodina Sliška A da to su ovi mali hoteli koji su zgodni njega I sad su trenutno Doste su izloženi u javnosti I u cijeni I kvaliteti među vojnačka kvaliteta No možda Kada dođe do ove transakcije može da osjednite u šera to zbog imeđa Znate Jer tamo je moj prijatelj Leko I vjerite mi To je isto čovjek koji ima jako puno veza On je po stare dane On je uspio kao djeda Ne kao poslovan čovjek I u Zagrebu Postalo je Društvo snobovsko Znate I on je cijeni čovjeka kako je obućen I u kojem hotelu spava A vi spavate kod Sliška U hotelu za 30 eura Noćin je A tražite kredit od 5 miliona eura Preselite se lijepo vas molim kod leke Ušeretno vidjet ćete da će drugačiji ljudi No dobro Ja 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 ću sad otić Da li da ja platim ovo Ne 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 Sve je vredno Ja ću da pa ipak Vred je da ja vas počastim S obzirom na Na vašu oslugu prema meni Ne a bosanci su tako Oni slani žele počastiti Znate Znate Per Na i Zap Spre Spre Pe col pol To Počastel Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.